Si è svolto un incontro seminariale del tavolo tecnico regionale di psicologia dello sport costituito dall'ordine degli psicologi, tra i membri oltre il CONIC e anche la Federazione Medici Sportivi. Questo tavolo tecnico ha l'obiettivo di creare le condizioni affinché lo psicologo si attivi in modo competente negli ambiti sportivi. Infatti si delineeranno tutte quelle condizioni di applicazione della psicologia nel contesto sportivo. Hanno partecipato a questo tavolo tecnico, oltre ai membri del tavolo tecnico sono i vari colleghi psicologi, anche colleghi psicologi della regione Sicilia, quindi sono venuti anche colleghi da Ragusa, da Siragusa, Catania, Messina, insomma tutte le province e anche dirigenti sportivi e allenatori, istruttori di noto, proprio perché sta prendendo sempre più spazio la competenza che si dovrà spendere nell'ambito sportivo. È a tutela dell'atleta e a tutela proprio dei servizi sportivi in generale. Per noi è estremamente importante, forse perché la psicologia appartiene all'ambito sanitario, e quindi che ci sia a tutela degli atleti o a tutela di chi vuole fare attività fisica, ci sia anche il supporto psicologico, lo riteniamo esclusivamente importante, perché è così come importante anche nella sanità pubblica. Per cui questo tavolo tecnico che è stato stimolato dall'ordine dei psicologi crea un primo approccio a quello che può essere il futuro dello psicologo all'interno del mondo dello sport o del mondo dell'attività fisica.